È un quesito che si rincore in questi giorni. Quanto si perde in termini di assegno se si va in pensione in anticipo con la cosiddetta quota 100? Stando ai dati elaborati dalla Società Progetica per Repubblica, chi opta per un'uscita anticipata dal lavoro, sfruttando appunto quota 100, sa che dovrà accontentarsi di una pensione più bassa del 15%. Si prende il caso di una persona nata nel 1959 che ha iniziato a lavorare nell'83 che guadagna 1.800 euro. Se va in pensione con quota 100, l'assegno sarà di 1.264 euro contro i 1.481 che otterrebbe andando in pensione nel 2027 con la riforma Fornero. Invece un secondo lavoratore, coetaneo del primo ma che lavora dal 1984, per pochi mesi potrà lasciare l'impiego solo sei anni dopo, perché entro il 2021, termine della sperimentazione, non avrà raggiunto quota 100. Le penalizzazioni riguarderebbero anche le lavoratrici che scelgono l'opzione donna per andare in pensione a un'età di 58 anni e 35 di contributi se dipendenti oppure a 59 anni se autonome. Secondo le elaborazioni, perderebbero un terzo della pensione rispetto all'assegno previsto dalla legge Fornero e le lavoratrici nate dopo il 1960 non potranno usufruire né dell'opzione donna né della quota 100.